L'area Marino, che Campania Notizia ha definito area fritta, ha dato un segnale importante a Caserta. Edoardo Giordano, ex consigliere regionale, ha aderito al partito soprattutto per l'amicizia nei confronti di Carlo Marino, di Sgambato e di Graziano. Insomma, un acquisto importante. Mi permetto una battaglia. Campania Notizia ci aiuta e ci stimola per fare sempre meglio. Quindi noi i suoi stimoli li ascoltiamo e stiamo lì per cercare di costruire un progetto migliore per il Partito Democratico e per la città di Caserta. Viene e inizia un percorso importante con il Partito Democratico della città di Caserta, ma con quello provinciale. L'onorevole Edoardo Giordano, persona stimabilissima, famiglia che ha costruito la città di Caserta, mi permettete, ha la sua storia personale, la sua storia professionale, la sua storia politica. Consigliere provinciale della Margherita, Consigliere regionale di Italia e dei Valori, un percorso nel centro-sinistra. Viene col Partito Democratico, ma viene soprattutto a costruire una proposta, che è la proposta per la città Capoluogo, ma per vincere soprattutto in questa sfida per De Luca e per la regione Campania. Proprio sul Capoluogo, l'ingresso di Giordano apre scenari nuovi. Ci può dire che succederà per le prossime elezioni comunali? Sia sincero però. Con molta sincerità noi stiamo costruendo un'alternativa alle destre e un'alternativa a Del Gaudio, che ha governato male, che sta governando male, con delle cantitudine regionali politicamente impresentabili, assolutamente inadeguate né rispetto alla proposta né rispetto al lavoro che hanno fatto in questi anni. E con Edoardo e con il gruppo consigliare e con il circolo cittadino, con la segretaria cittadina, vogliamo costruire l'alternativa a Del Gaudio, ma soprattutto l'alternativa al malgoverno della centrodestra. Dopo le elezioni provinciali c'è stato qualche momento di attrito tra la sua area e quella di Graziano e Stellato. Tutto ricuscito, tutto a posto a quanto pare? Il problema non è la discussione tra le aree, è la discussione sul progetto. Noi ambiamo che il Partito Democratico diventi guida di questa provincia, che ambisca ad avere una leadership autorevole e forte, che rispetto ai cittadini, rispetto ai grandi temi che la provincia di Caserta deve affrontare, qual è il tema dell'occupazione, dell'ambiente, delle infrastrutture, dei servizi sociali, dobbiamo essere pronti come partito, quindi la discussione è animata, costruire una classe dirigente autorevole, nuova, innovativa, di rinnovamento e che sia, come dice il nostro leader, si cambi verso, si cambi verso anche in provincia di Caserta e non si è più ultimi. E rispetto a questo noi discutiamo e ambiamo che il Partito Democratico amplia sempre di più la sua visione di guida, non solo dell'intero centro-sinistra, ma dell'intera provincia di Caserta. Lei è arrivato un po' in ritardo all'iniziativa con il sottosegretario Rughetti, che non vedendola in sala si è chiesto dove fosse finito, un segno di affetto nei suoi confronti. Sì, innanzitutto ero a fare udienze, ricordo sempre di essere un manovale del diritto, ma poi sostanzialmente l'onorevole Rughetti, sottosegretario della Funzione Pubblica, da sempre, dal 2011, sulla mia candidatura a Sindaco, abbiamo costruito un percorso insieme a Graziano del Rio, insieme a Lanci, insieme all'attuale oggi Presidente della Regione Piemonte con Chiamparino, un percorso di innovazione anche nel Partito Democratico che ha portato ad appoggiare il nostro progetto su Matteo Renzi e quindi la vicinanza a Angelo e la vicinanza a un progetto, quello di innovazione, di un partito che sia funzionale, che sia di risposte serie, anche dove nella funzione pubblica che è il suo settore, dove dobbiamo sempre di più dare risposta ai dipendenti pubblici, alle loro esigenze e ai loro servizi.